Una morte orribile per una bimba di nemmeno un anno e mezzo. È deceduta probabilmente per le conseguenze di una sfissia la piccola Gioia, trovata senza vita nell'auto di famiglia in zona Borgobrà, a Vicenza. La bimba è stata tragicamente dimenticata in macchina dai familiari. Era la più piccola di una coppia di cittadini italiani di origine ivoriana, perfettamente integrata, che ha altri cinque figli. Per capire le cause della tragedia, le ipotesi più accreditate sono ipertermia o, come si diceva, sfissia. Sarà necessaria l'autopsia, che è peraltro già stata ordinata dal magistrato di turno. È stata anche avviata un'inchiesta per omicidio colposo, per appurare se ci siano delle responsabilità. La disgrazia sarebbe avvenuta perché i genitori erano convinti che ad occuparsi di Gioia fossero stati i figli più grandi e viceversa. Sa di fatto che nessuno di loro se ne stava occupando. L'allarme è stato dato dai genitori solo alle 17.30, ma ormai era troppo tardi. La coppia aveva già perso un altro figlio tempo fa, pochi giorni dalla nascita. I due si sarebbero sposati tra poco. Vicini e amici sconvolti parlano di persone splendide e attenti ai figli.